Iniziato con un progetto urbanistico da parte della precedente amministrazione di centro-sinistra, l'insediamento residenziale in via di Vittoria Fornovo nell'area dell'ex aeronautica, prospiciente alla piscina comunale, è stato ridotto da 92 a 74 unità immobiliari per ridurre l'impatto in una zona già congestionata dal traffico. Il progetto urbanistico che è iniziato con la precedente amministrazione, quindi che abbiamo ereditato, che vede una riduzione delle unità residenziali che da 92 passano a 74, che però non risolve i problemi di natura urbanistica legati al potenziamento infrastrutturale, in quanto non si era tenuto conto nell'approvazione, perché questo è un progetto urbanistico approvato e non aveva affrontato con la giusta sensibilità e il potenziamento infrastrutturale di un'area che è già congestionata per la presenza delle numerose aziende. Dopo numerose lunghe interruzioni, per diverse ragioni, sono ripresi i lavori, avrà un orientamento a edilizia sociale convenzionata, rivolta in principal modo alle giovani coppie. Nel frattempo, quello che è stato anche approvato dall'attuale amministrazione, è un progetto di edilizia convenzionata, destinata alle coppie giovani o alle giovani coppie. Quindi, grazie ai contributi regionali, il comune da una parte rinuncia agli oneri di urbanizzazione, quelli legati agli appartamenti ERSE, e dall'altra, quindi, il contributo regionale consente di agevolare le giovani coppie nell'indituazione di residenze per impostare progetti di vita insieme. Il bando di assegnazione è già iniziato, nonostante sia in via di ultimazione la prima coppia delle due palazzine del progetto Enterprise, fruttando a pieno le energie rinnovabili a bolletta zero. Queste palazzine, che sono costruite da un punto di vista tecnico come palazzine a bolletta zero, nel senso che saranno dotate di tutta una serie di realizzazioni di efficientamento energetico, per cui cappotti, pannelli fotovoltaici, e quindi non ci sarà nemmeno l'allaccio del gas, ci sarà la predisposizione, ma non ci sarà l'allaccio, in quanto dovranno essere autonome, quindi piastra di induzione, raffrescamento e riscaldamento, tutto dato dalla possibilità dell'installazione dei pannelli fotovoltaici. Un forte richiamo per le giovani coppie per far ritornare nel paese quel tessuto sociale perso nelle decenni passate, in prospettiva anche per lo sviluppo dell'area produttiva ex petrolifera in via di attuazione. Il reddito ISE di riferimento non potrà superare i 40.680 euro e potrà dare risposte a chi non può più accedere alle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari. Spichiamo che ci possa essere un interesse a candidarsi per poter riempire questi alloggi. Sicuramente potranno trovare risposte ai propri bisogni anche quegli affittuari che per effetto dell'introduzione della normativa regionale dei residenti all'interno dell'ERP, cioè dell'edilizia residenziale popolare, perché magari non hanno più la possibilità di permanere all'interno degli alloggi popolari, avranno un punteggio maggiore per poter accedere all'ERS.